Napoli sarà pronto il 3 luglio, come è giusto che sia. Adesso stiamo lavorando tutti quanti molto bene, è un orgoglio ospitare 124 nazioni. Attraverso lo sport Napoli si candida a essere città della pace, anche attraverso lo sport. Sta facendo un grande lavoro di squadra, non solo le istituzioni, un po' tutti. Si sta incominciando a entrare in quel clima giusto per dimostrare che siamo in grado di vincere qualsiasi sfida. Grazie per la visione!